What are you doing? Finalmente, sto guardando in faccia la realtà. Please, put the dagger down and let me explain. No! Ora tocca a me parlare. Ricordi la prima volta in cui mi hai salvato la vita. Mi hai scambiata con qualcosa. Pensavo di aver visto qualcosa in te. Qualcosa di buono. Beh, ho trovato quel guanto oggi. Ed in quel momento ho finalmente capito che tutti i segnali che ho visto erano corretti. Non avresti mai, mai rinunciato al potere per me. Non l'hai mai fatto. Non lo farai mai. You don't understand. No. Mi hai detto che quel guanto poteva condurti alla debolezza di qualcuno. Alla cosa che amano di più. Beh, vuoi sapere tu è mia condotta, Tremotino. Al vero pugnale. Il tuo vero amore. E il tuo potere. Io volevo soltanto te. Volevo essere scelta e non... Ho cercato di essere tutto per te, Tremotino. Ma non lo ero. E io... Ho perso la via. Cercando di aiutarti a trovare te stesso. Ma ora basta. Non sei mai cambiato. No. È troppo tardi. Una volta vedevo l'uomo dietro la bestia. Ora c'è solo la bestia. Tremotino. Ti ordino di lasciare Storybrooke. Oh no. Porremmo. Non poter tornare. Lo so. Lo so. Lo hai già fatto. Non poter tornare.